Ci sono 680 famiglie a Foligno che non possono pagare o pagano con enormi difficoltà i libri scolastici di medie superiori. Sono quelle che hanno risposto al bando indetto dal comune finalizzato a derogare contributi per aiutare le famiglie a mandare a scuola i propri figli. Il sostegno economico pubblico non riuscirà a pagare interamente il costo che varia dai 350 ai 100 euro ma almeno il 70 per cento sarà garantito. Questo grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che ha deciso di aiutare il comune nel sostegno alle famiglie erogando 50 mila euro che si andranno ad aggiungere ai circa 40 mila finanziati dalla regione per un totale di 90 mila euro. Tanto ma purtroppo non sufficiente a coprire il costo totale delle 680 famiglie bisognose, ne sarebbero serviti 125 mila quindi il comune ripartirà il contributo tra i richiedenti comprendone la spesa per circa il 70 per cento. Ci siamo trovati di fronte alla difficoltà di far fronte a questa esigenza e assicurare davvero il diritto allo studio perché anche poter iniziare l'anno con i libri, con il materiale come gli altri studenti che magari possono permetterselo è un aspetto fondamentale del diritto allo studio. La regione erogherà il suo contributo nel febbraio marzo 2014, troppo tardi per famiglie che non hanno potuto versare alle librerie nemmeno l'anticipo dell'acquisto. Per questo la fondazione ha invece deciso di erogare subito il suo finanziamento così da rimborsare i genitori degli studenti già entro Natale almeno del 40 per cento della spesa sostenuta e dimostrata. Un sostegno immediato e concreto contro le nuove povertà che anticipa i due filoni di intervento che la fondazione si è data per il 2014. Prevalentemente istruzione e indigenza. Viviamo un momento tanto difficile, l'economia ancora non ne mostra segni di ripresa e certamente ci saranno delle grandi difficoltà, quantomeno nel primo semestre del 2014. Quindi tra tutti i settori in cui opera la fondazione terremo in special conto l'indigenza e l'istruzione che non dobbiamo mai abbandonare perché dobbiamo puntare sui giovani per cercare di migliorare il futuro.